Ben trovati, ben trovati da Riccardo Borgia con il consueto appuntamento con Rosso Corse la settimana dove raccontiamo il mondo dei motori a 360 gradi partendo chiaramente dalla pista per poi andare a commentare tutte quelle voci che ci arrivano dal paddock e dal post gara perché si è corso appunto il weekend di MotoGP si correrà a fine settimana invece la Formula 1 torneranno le quattro ruote e sono tanti i temi di discussione che affronteremo in questa puntata nella prima parte andando a ripercorrere un po' quello che è successo nella settimana dei motori e nella seconda parte andando a commentare poi tutte quelle notizie e il prossimo weekend di gara appunto con un lieto ospite e però partiamo dalla Formula 1 perché sono tante chiaramente le voci riguardanti l'ultimo weekend di gara che ormai risale a più di una settimana fa però si continua a parlare di McLaren e di Lando Norris e ne ha parlato l'ex titolare del team di Jordan che ha commentato chiaramente le prestazioni in pista della McLaren e soprattutto del pilota 21N che sta facendo molto bene in questa stagione mi piace Norris e credo sia veramente speciale detto ciò Gasly mi sorprende ogni volta che lo vedo in auto perché ha la capacità di fare grandi cose così come abbiamo visto tutti con la vittoria in Italia l'anno scorso se vogliamo trovare qualcuno a degli standard molto alti credo che però l'unico sia Norris penso che proprio se cerchiamo un papabile campione del mondo britannico lo potremo trovare nella figura di Lando perché? Perché di Jordan ha commentato sia Norris ma anche i giovani piloti che sono entrati in questa stagione in Formula 1 perché abbiamo visto diverse novità nelle line up delle squadre come appunto lo stesso Gasly anche la riconferma di Norris e anche Mick Schumacher appunto è intervenuto anche sul pilota tedesco ha prodato in Formula 1 per la prima volta quest'anno dopo appunto le brillanti prestazioni in Formula 2 e ha commentato è troppo presto per dire qualcosa sta imparando a volte ci vuole un po' di tempo il padre comunque Michael sulla Jordan era su una vettura già pronta alla vittoria e quindi diciamo così non si è dovuto adattare da subito alla macchina ma ha trovato subito un equilibrio cosa che avrà più difficoltà Mick perché la AS sappiamo che quest'anno è stata comunque una vettura copia praticamente della scorsa stagione e purché ha puntato appunto la casa sul 2022 quindi vedremo se anche Mick punterà sulla AS nella prossima stagione c'è stata chiaramente la conferma della line up 2022 della AS con Mick Schumacher presente e quindi vedremo se proseguirà poi il cammino con questa vettura o magari dopo il secondo anno di comunque in missione in una categoria sicuramente complessa come quella della Formula 1 troverà la sua strada in altri team avete visto nelle immagini Norris perché Norris si è molto dispiaciuto si è scusato con poi la stessa scuderia per l'errore durante il Gran Premio per non essere rientrato in Turchia dopo la comunicazione dei box e questo gli ha portato insomma anche a voler tornare in pista poi nella prossima settimana con sicuramente più voglia di rivalza anche secondo i suoi tifosi però sicuramente una lotta quella definitiva fino alla fine della stagione sarà quella tra Verstappen ed Hamilton vedete il pilota appunto inglese festeggiare la vittoria nel Gran Premio di Sochi e però dietro è arrivato Max Verstappen che dopo aver subito la penalità nel partire appunto in ultima posizione ha comunque riuscito a scalare le varie posizioni arrivando fino alla seconda di lui ha parlato Jacques Villeneuve perché ha commentato Verstappen è superiore, non ha commesso molti errori ed è sempre andato all'attacco al contrario Hamilton ha mostrato debolezze così come la Mercedes molto più della Red Bull dopo Rosberg Hamilton ha avuto la vita facile e quest'anno si è dovuto svegliare ma non mi piace che questi sbagli vengano puniti è stato un errore anche di Hamilton soprattutto di Hamilton questo a commentare il nerve di incidente ricorderete qualche weekend fa appunto a Monza dove i due sono andati a contatto nella prima variante Verstappen questi due non riescono a restare dentro i limiti Lewis invece di solito non commette questo tipo di errori li fa solo con Max diciamo indicando forse un nervosismo maggiore del pilota inglese rispetto alla scorsa stagione e sicuramente rispetto a dove le lotte erano più semplici con Valtteri Bottas che è stato sempre un ottimo gregario di Lewis Hamilton a meno che insomma non arrivasse poi qualche particolarità della gara vissuta dall'inglese e dal finlandese e parliamo di Bottas proprio perché è intervenuto sulla chiusura della stagione perché come sapete nella prossima stagione Bottas sarà un pilota appunto Alfa Romeo e diciamo che è intervenuto sul fatto di chiudere in bellezza questa stagione e questo cammino fatto con la Mercedes fare il meglio ogni singola gara è comunque il mio obiettivo rimane il mio obiettivo le ambizioni e le motivazioni ci sono e ci saranno sempre Lewis la vittoria finale auguro questo so che non hanno davvero sviluppato l'auto quest'anno e che non sono di conseguenza progrediti molto nel corso del mondiale so che hanno messo in atto comunque per il futuro un progetto interessante ma l'anno prossimo anche le vetture saranno diverse quindi sono ovviamente fiducioso anch'io per la prossima stagione queste appunto sono state le parole di Valtteri Bottas che ha commentato anche il suo prossimo approdo in Alfa Romeo Alfa Romeo che cede il passo e perde Kimi Raikkonen però c'è ancora un punto da discutere ovvero commentato anche da Frederic Vassorti in principal Alfa Romeo in termini di prestazioni dobbiamo analizzare le qualifiche e le gare l'anno scorso ha fatto delle ottime gare era il più veloce nel corso del primo giro comunque si è comportato bene parliamo appunto di giovinazzi tuttavia questa stagione non è stata all'altezza quando doveva progredire dalla Q1 in poi nelle ultime prove però è migliorato e mi ha fatto piacere vederlo mantenere le promesse facendo un passo in avanti l'aspetto positivo comunque nella nostra posizione è che possiamo aspettare e comunque abbiamo tutto sotto controllo perché bene o male le line-up 2022 sono state comunque già decretate, già decise e quindi si va verso però una conferma di giovinazzi al momento non c'è conferma al momento non c'è la decisione definitiva però magari con l'immissione nel team di Valtteri Bottas può arrivare per giovinazzi una conferma è molto frustrante essere fuori dalla vettura ed attendere gli altri per vedere se stanno facendo bene o male il proprio dovere Antonio ha questa occasione e deve coglierla e sicuramente deve cogliere l'opportunità ancora di sviluppare ancora di più la monoposto per arrivare poi al 2022 dove ci saranno appunto delle grandi novità per la monoposto e per i regolamenti e quindi avere anche una posizione di prim'ordine nella scuderia però parliamo ancora di McLaren parliamo di Lando Norris perché ad intervenire è stato invece dalla parte Red Bull Helmut Mark l'ho già notato da tempo e abbiamo anche parlato con lui ma è legato alla McLaren a lungo termine noi rimaniamo fedeli alla nostra strada noi poi abbiamo Max che riesce a portare risultati in qualsiasi condizione e lo abbiamo visto del resto ha nel Gran Premio di Sochi ha quasi vinto la gara dovevamo solo a richiamarlo al box un giro prima e sicuramente si parla e Marco ha parlato della posizione non tanto chiaramente di Max Verstappen ma dell'altro pilota Red Bull Sergio Perez che sicuramente non sta facendo benissimo in questa stagione con una macchina comunque che viaggia e viaggia molto e appunto i risultati leggermente deludenti del pilota hanno sicuramente alzato le voci su un suo possibile futuro o meno in Red Bull però Helmut Marko ha parlato anche di un altro pilota ovvero Russell nel 2022 vedremo quanto sarà bravo e si ha dimostrato già di che pasta è fatto nel GP bis del Bahrain 2020 sostituendo Hamilton credetemi con quella vettura l'anno scorso diversi piloti avrebbero potuto vincere il mondiale questa diciamo è un po' una frecciata che Helmut Marko lancia alla Mercedes perché in molti ne hanno parlato di addetti ai lavori anche lo stesso Marco del fatto della facilità magari nel raggiungere un risultato ottimo da parte della Mercedes con quella determinata macchina quest'anno poi non è stato così perché la Mercedes è comunque più in difficoltà rispetto alla scorsa stagione però sicuramente un dettaglio in più lo farà il pilota il prossimo anno Russell che avrà comunque molta voglia di mettersi alla guida della Mercedes e conquistarsi così il posto che ormai da due anni sta attendendo però si parla anche di regolamento nel 2022 e soprattutto del calendario della Formula 1 perché domenicali è intervenuto proprio su questo sul fatto di aumentare ancora di più lo spettacolo nel 2022 lo si farà attraverso il calendario però si attende comunque l'ufficialità ancora delle disposizioni del prossimo anno il calendario sarà composto dalle 23 da 23 gare posso dire che non estenderemo troppo il nuovo format della sprint race è qualcosa che vogliamo mantenere più o meno per un terzo delle gare quindi 7 o 8 gare per distribuire l'opportunità di cogliere punti su certi circuiti che possono comunque fare la differenza si attende chiaramente l'ufficialità del calendario per la Formula 1 2022 e questo potrebbe arrivare il 15 di ottobre per vedere insomma anche ulteriori novità riguardo proprio al calendario perché Domenicali aveva parlato anche addirittura di 23 barra 25 gare per scoprire anche altri luoghi nel mondo dove la Formula 1 non era mai stata si parla dell'Africa si parla di altri luoghi insomma inesplorati dal circus della Formula 1 staremo a vedere anche l'emergenza epidemiologica come sarà e come permetterà appunto agli organizzatori dei vari gran premi di aprire le loro porte però parliamo di Mercedes perché Toto Wolf ha commentato chiaramente questa notizia la questione dell'aumentare la sprint race non mi piace però il format della gara sprint perché per il sabato c'è troppo poco in gioco per un verso e troppo in altro perché non vuoi ritrovarti in fondo alla griglia infatti la questione di rischio della sprint race è che si arrivi poi magari in un incidente in un fuoripista o in una delle problematiche relative alla monoposto poi a condizionare anche la gara della domenica partendo dal fondo forse dovremmo cambiare un po' la distribuzione dei punti o la lunghezza della gara e poi Toto Wolf come è di consueto anche lui chiude con una battuta se è la partenza che conta possiamo fare solo due giri chissà se Toto Wolf si riferisce all'episodio chiaramente di Spa dove Max Verstappen conquistò dei punti due punti importanti però per il mondiale ai danni proprio di Lewis Hamilton facendo solo due giri dietro alla safety car e però Toto Wolf è intervenuto anche su un altro tema cruciale di Mercedes ovvero la power unit perché Verstappen avete visto insomma ha cambiato la power unit durante l'ultimo gran premio ed è arrivato secondo e quindi sicuramente lo sfruttare una penalità del genere è stato al massimo per la Red Bull chissà se la Mercedes riuscirà a sfruttarlo in questo modo per ora stiamo monitorando la situazione gara dopo gara per vedere come evolvono le prestazioni e la durata della power unit il cambio di motore avverrà in modo naturale e avremo lo stesso svantaggio della Red Bull a Sochi montare il quarto motore ad Hamilton in Turchia ci stiamo pensando perché il prossimo gran premio sarà appunto quello della Turchia è una possibilità ma non abbiamo ancora deciso ciò che conta è non rischiare mai un ritiro a causa di problemi di affidabilità anche partendo dal fondo si possono comunque raccogliere punti importanti il campionato è lungo mentre un ritiro sarebbe molto pesante sicuramente per la lotta al mondiale sancirà quasi sicuramente poi il distacco di Max Verstappen mancando ormai sette gare alla fine del mondiale chiudiamo la pagina relativa alla Formula 1 prendo quella della MotoGP perché si è corso invece in MotoGP queste le immagini appunto delle qualifiche con un bagnaia già in palla nei primi minuti delle qualifiche e un Marc Marquez che comunque sta lottando per tornare al top infatti tira il tempo Marquez a 8 minuti dalla fine seguito appunto dagli altri piloti e però comunque bagnaia sta cercando insomma di avere un tempo utile per poi proiettarsi alla pole position a 57 secondi arriva proprio il tempo di bagnaia con un 2-2-7-8-1 e un Fabio Quartararo che arriva appunto a conquistare la seconda piazza Marquez conquista invece il gradino più basso del podio e così appunto si definisce la linea di partenza del del Gran Premio però Bagnaia ha parlato dopo il Gran Premio nel giro precedente a quello della pole ho fatto un grande passo avanti ne avevo fatto anche un altro in Q2 quindi ora penso che domani potremo lottare per una grande gara sarà molto importante la scelta delle gomme perché abbiamo vinto abbiamo visto che alcuni piloti partiranno con le morbide alcuni con le medie e altri con le chiare con le morbide scusate e quindi sicuramente si dovrà trovare poi una soluzione per l'affidabilità della moto in pista andiamo a vedere la gara perché le immagini anche qui sono molto interessanti con la gara subito un Marc Marquez che sfrutta l'interno della curva e si mette in prima posizione e un Bagnaia che cede un poi il passo a Fabio Quartararo a 20 giri della fine alla partenza praticamente gli altri piloti poi si accodano non ci sono molte sorprese tranne un sorpasso appunto dei sorpassi di proprio Bagnaia ai danni di Fabio Quartararo Marquez vola invece come primo della classe è tornato almeno in questa gara che lo vedeva sempre protagonista molto attivo soprattutto per la fuga e poi a 8 giri dal termine inizia la bagarre ovvero la bagarre tra Fabio Quartararo e Jorge Martin che appunto cede il passo in prima battuta e poi invece dà comunque tanto filo da torcere a Fabio Quartararo però a 4 giri dalla fine succede appunto questo il lungo di Jorge Martin e il sorpasso di Pecco Bagnaia proprio sul pilota questo è il podio finale invece un ultimo giro molto emozionante con un Marquez che aveva chiuso già in anticipo un Quartararo secondo e un Pecco Bagnaia in terza posizione queste le ultime emozioni finali e appunto la celebrazione di Mark Marquez in un ormai gran premio che è diventato di casa Marquez ha parlato proprio nel finale di gara dopo la celebrazione della sua vittoria e anche quella di un ottimo Quartararo che arriva secondo e un Bagnaia che comunque ha qualcosa da dire ai suoi colleghi per qualche mossa insomma senza stabilità nel mantenere la moto e questa è la celebrazione di Marquez e le sue parole sono felice davvero felice perché è stata una stagione molto dura a volte cado e non capisco come a volte sono veloce e non capisco come mai a volte sono lento e non capisco perché ma so che cercavo questa vittoria perché so che forse questo è l'ultimo circuito dove avrò una buona possibilità per vincere questa ecco l'altra gara invece di Moto2 andata in scena dopo la MotoGP con anche lì molte polemiche soprattutto con diversi sorpassi al limite però Marquez oltre chiaramente l'intervista post gara ha commentato anche tutto il weekend messo in piede dalla sua onda e dallo stesso compagno di squadra sono andato forte venerdì sabato ho deciso di gestirmi per non arrivare distrutto fisicamente alla gara poi il GP è andato come mi aspettavo è andato tutto bene puntavo alla fuga perché sapevo che avrei faticato in un eventuale corpo a corpo finale soprattutto per la mia condizione ancora non al top negli ultimi giri mi sentivo stanco ma visto che Quartararo era lontano e sapevo che non avrebbe spinto al limite per evitare rischi in chiave mondiale in questo momento non sono nelle condizioni di poter lottare per il titolo devo lavorare per riuscirci l'anno prossimo questo sicuramente l'obiettivo di Marquez ormai da inizio stagione e però un altro pilota che comunque non è molto soddisfatto anche del suo rientro in MotoGP dopo l'infortunio è Morbidelli perché Morbidelli ha parlato chiaramente del post gara sfortunatamente sono riuscito a fare 7-8 giri e poi ho dovuto calare il mio ritmo di molto altrimenti non sarebbe stato possibile per me terminare la gara non avevo più forza nella gamba e soprattutto facevo fatica a fare le curve è stata la gara più difficile della mia vita per via delle condizioni fisiche in cui mi sto trovando adesso nel complesso però è stato comunque un weekend positivo chiudiamo questa prima parte di Rosso Corse la settimana parlando invece di Enea Bastianini perché sicuramente lui si può ritenere soddisfatto del del percorso che sta facendo in MotoGP dopo il posto di Aragon e del brillante podio nella sua Misano appunto sono contento perché da Silverstone ad oggi abbiamo fatto veramente un grande step in avanti penso di potermela giocare sempre nelle prime posizioni ad Austin non pensavo di arrivare sesto perché partivo sedicesimo e su cui su una pista così sapevo che non era facile rimontare ma ci sono comunque riuscito queste appunto le parole di Enea Bastianini che anche lui dalla prossima stagione tornerà sicuramente più attivo con delle modifiche che sta applicando alla sua moto nella seconda parte invece di Rosso Corse la settimana commenteremo con un ospite tutte le notizie che ci sono arrivate dal weekend di gara e dalla settimana e soprattutto ci proietteremo poi al weekend di gara con la Formula 1 che torna in pista a tra poco